Laboratori creativi, musica, circo sociale e naturalmente lettura e studio. Nella scuola Rodinò di Barra i bambini e i ragazzi del quartiere possono praticare gratuitamente attività culturali e ricreative grazie al punto luce dell'associazione Save the Children che lavora in collaborazione col tappeto di Iqbal. Noi lavoriamo in un quartiere della Sesta Municipalità che è un quartiere molto difficile dove c'è un grandissimo tasso di dispersione scolastica le attività che noi facciamo sono aperte a tutti, noi riusciamo ad intercettare in un anno solare anche 200 bambini il primo obiettivo è quello proprio non solo di contrastare la dispersione scolastica ma di avvicinare all'istituzione scolastica le attività principali che svolgiamo insieme al punto luce Save the Children sono accompagnamento allo studio, rafforzamento di alcune problematiche scolastiche che hanno e poi facciamo attività che vanno dagli orti urbani fino a attività circensi, teatro, parkour, acrobatica aerea, tamurre, balli e canti del sud adesso stiamo facendo anche tamurriate, cioè qualsiasi cosa ci inventiamo che può essere utile ad agganciarli e a farli stare qui per più ore al giorno, lo facciamo. Questo pomeriggio il punto luce di Barra ha ricevuto la visita del sindaco Luigi De Magistris e di Fabiola Sciabarrasi, ex moglie di Pino Daniele e presidente della ONLUS Pino Daniele Forever che devolverà al progetto di Save the Children la sua parte di proventi del concerto in memoria dell'artista napoletano previsto per il 7 giugno allo stadio San Paolo di Napoli. L'infanzia disagiata sicuramente è invalidante per lo sviluppo di un bambino e di un ragazzo, però assolutamente dobbiamo mobilitarci affinché non sia negato questo diritto proprio all'istruzione e comunque a una vita che è giusto che un bambino dai 6 ai 16 anni, che è il target chiaramente dei punti luce, in qualche modo debba godere. In occasione del grandissimo concerto per Pino che ci sarà il 7 giugno allo stadio San Paolo di Napoli, una parte del ricavato verrà dato ai punti luce che Save the Children realizza in tre punti delicati della città Barra, Chiaiano e Sanità, qui a Barra insieme al tappeto di Iqbal che fa un lavoro enorme e qui alla scuola Rodinò che è un punto di riferimento del quartiere. Anche noi abbiamo contribuito a mettere insieme i vari punti protagonisti di questo messaggio assai significativo per i luoghi di maggiore sofferenza della città. Grazie. Grazie.